Per caso è necessario avere un conto corrente? No, non c'è bisogno. L'importante è non superare i 5.000 euro. Cosa sei fatta? Chi chiede da 5.000 euro al mio figlio? Hai ragione. Lei in passato ha già fatto degli investimenti? Investimenti? Ma io non voglio rischiare con le azioni. Un colpo così basso da te non me lo sarei mai aspettato. In momenti di difficoltà tra colleghi ci si aiuta. Ma... Sarò padre! Sono sicuro che troveremo una soluzione per risolvere tutti i vostri problemi e realizzare così il vostro sogno. Nove modi diversi di raccontare le attività commerciali in banca. Ci sa dire la differenza tra un'azione e un'obbligazione? Ovvio! Un'azione è un titolo rappresentativo di una quota della proprietà di una società. Ragazzi, le cipolle sono pronte! Ti piace? Wow, fantastico! Mi ha legato a mio marito. Grazie. Le faremo sapere. Grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci. Il finanziamento è stato approvato. Meno male. Nove ciac per sviluppare le competenze nel settore finanziario e assicurativo. In seguito ad un incidente stradale, lasciando a lei e i suoi parenti un'eredità... Angelo, vieni subito! Non è possibile! Ha detto truffo! Come puoi vedere, siete assicurati per un massimale pari all'80% del valore dell'immobile. A me stai diventando con i contanti non è possibile. Ci sono delle procedure da rispettare. Procedure? Ma, cosa è? Tu vieni il quadro e la mia parte del vostro. Qual è il problema? Dinado soldi! No problem! Grazie a tutti.